buongiorno buongiorno coccodrilli è lui o non è lui certo che è lui lo schiso guarda mi schisa la mattina no vabbè sta pieno raga sta pieno di malmellata di fica guarda quanto ce n'è guarda l'hanno anche rappresentata guarda che lavoro cioè vi rendete conto guarda questa malmellata di f*** buongiorno buongiorno un cazzo perché che stai a fare ho messo l'olio da lì ah già quindi hai filato tutto liscio e beh come l'olio è come un coglione mamma mia mamma mia ma mette una benda mette una benda di lì la mette una bendina una benda come in pirata come in pirata la fa il piratino la fa il piratino levate ah lo vuoi fare il pirata porta fuori la stiganga mia si sottopalla come sei messo ancora senti qui come sei messo a sottopalla bene bene senti il solletichino ma non c'è il bambotto tu che stai a bambotto tu che stai a bambotto tu sei un cane e il figlio della mignota tu sei il figlio della mignota che stai a bambotto qui tu sei un figlio della mignota chiappelo chiappelo eh cacca da voglio fare solo le coccoline e i pennelli e basta che te ne sono questo della terza coccoline e pennelli signori non ti voglio far arrabbiare va bene coccoline e pennelli raga perchè i pennelli sono importanti oh questo caffè eh che hai fatto oh che hai fatto ma come che ho fatto ma per prendere il caffè tu sei un coglione pieno di pizzo no si ma perchè perchè si no buongiorno 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 ma hai visto nonno che ha fatto? eh c'ha l'occhio del demonio va via c'ha l'occhio del demonio va via demonio rosso va via va via trovo va via va via manchi la manina si la manina mettono le mandal mettono la perla su il caffè ti tengo la manina no la manina mettono la perla su il caffè no 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 la manina mettono la perla su il caffè amo la coppia più bella del mondo e ci dispiace per gli altri che sono tristi che sono tristi che non sanno più cos'è l'amor nooo che è? vabbè no vabbè no vabbè 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 sta pieno pieno di sorca guarda guarda eccone una guarda eccola eccola questa che tipo di sorca è? questa è scadente questa è scadente la sorca che è? quella è scadente no e la fa un po' così con la bocca capito com'è? ma cosa fa? cosa fa? con la bocca un po' così come se stai masticando una big bubble ma invece ne stai masticando una big bubble penso di finire una big bubble ma invece ne vico ho capito di fare così con la bocca no no come se volessi masticare una big bubble invece ne è una big bubble perchè la big bubble non è una gomma ma lei ti dico io ma dici che cazzo dici? ti stava a dire che dovevi fa un po' così con la bocca? basta che te ne vede vabbè dici che dagli via ah un po' che non lo faccio sound check ci siamo ci siamo buongiorno buongiorno coccodrilli sulle mani sulle mano io vi amo se sei se sei un coccodrillo allora dillo oggi una splendida giornata di sole ma il sole ce l'abbiamo dentro ok ci sei e niente io parto spero sia una buona giornata per tutti c'è la frizione da consumà io non l'ho visto mai hai fatto una partenza io veramente ma la gente nuova atleta pronta per le olimpiadi un atleta della madonna 30 secondi vai 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 brava a 1 all'ora così sconfiggi il demonio va via eh va via vai via dai dai che così la fai dal calcio vai via così non fa niente ma la roba è di chiappa ah va via ti chiappa è la lì sempre quello oggi va così finalmente eh ha preso questo giocattolino eccola la bimba stiamo imparando eh eh sì com'è stiamo imparando eh dura eh piano piano chiaramente verrà verrà coccodrillizzata tutta adesso è tutt'oggi che sto girando per trovare una cosina un regalo per la festa del papà ma con scarsi risultati ora provo a cercare qualcosa di bello su Bidu intanto vi faccio vedere 2 euro e 38 un iPhone venduto martedì guardate che lavoro ma per la festa del papà io andrei sulla sezione luxury e proverei a puntare intanto ma per la festa del papà io andrei sulla sezione luxury e proverei a puntare su una bella bottiglia di vino ecco qua provate anche voi nel frattempo mentre io sto ancora puntando su un'altra bottiglia di vino vi lascio 10 puntate gratuite coccodrilli fate swipe e provate bella giornata eh bravo bravo vai guardiamo una cattata moto Elisa ci ha fatto delle foto fantastiche vero? grazie Elisa grazie grazie sempre sicurezza al top nooo che hai fatto? come ti sei vestito? da cross da varia fila d'auro no è vero? perché? e beh perché? quanto so bello tutto floreale e beh so bello o no? eh ce ne ha ce ne ha vazzone a sottopalla come siamo messi? fermati come siamo messi? come siamo messi? come siamo messi a sottopalla? fermati dio oh ah vieni a sottopalla bello bello ragazzi oh no oh oh no oh oh no oh oh no ti trema il braccio no oh 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 mi trema il cazzo nooo allora ti mannaggia ma sembra che mi sto sempre davanti ma perché voglio vedere se tu mi vuoi far passare ma che sta trema tutto il braccio nooo quanto mi sei mancato eh senti ma mangiamo il pollettino con le verdurine eh buttaria via perché? eh perché mi piace perché? eh mangia il pollettino con le verdurine io mi mangio il cazzo nooo ma sta cinta ma è buonissimo il pollettino buono ma da lui mi piacciono eh mi è piaciuto mi è piaciuto perché c'erano cose che da lui mi piacciono e tornare a guardare al tutto arzughe o no? la cipolla ma quanto ne mangia? quanto ne mangia? quanto ne mangia? quanto ne mangia? l'assaggio il pane quanto ne ha mangiato? ma c'è che? o no? nonno ti devi tagliare i capelli nonno ma però tu o no? ti devi tagliare i capelli ti devi tagliare i capelli non lo taglio niente te la e beh oggi ci puoi fare niente qui allora entriamo prendiamo allora cominci con questo ciuffolo ma c'ha il saggio ma che è saggio? che c'è che dico io? c'è il saggio ma c'è quel saggettino che è? tu sei saggio tu sei coglione non taglio codrilli ho appena oggi ho preso una schedina per salutare tutti voi domani e dopodomani mi ci metto tutti quelli che hanno acquistato da lunedì il mio merchandise www.carlettolife.com continuate a farlo per ricevere un video saluto da me e il nonno e niente fate swipe www.carlettolife.com saluto speciale per voi direttamente nel vostro perché tanto vedo tutti i numeri quando acquistate quindi top da domani ci metteremo a iniziare a salutare intanto voi fate swipe sono cotto ragazzi non pensavo che la moto da cross stancasse così succede anche a voi voi crossisti adesso sarò anch'io un crossista stanca così infatti stasera c'è anche la maglia di Tony è proprio un prentema devo essere io ma stanca anche a voi così proprio non muovo le braccia sono distrutto però mi hanno detto che con la tuta da cross sto bene col casco sembro proprio bello quindi vi faccio vedere qualche commento